e ciao 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 a tutti allora vi volevo avvisare che stasera alle ore 22 per chi ci potrà essere faremo una bella intervista farò una bella intervista a Giammi 94 lui ha questo qua è su canale youtube che vedete questo qua è il suo canale youtube lui va beh c'è anche sulla piattaforma viola lo potete trovare va beh qua c'è il suo instagram il suo facebook allora Giammi 94 gli faremo un sacco di domande oggi e poi se voi venite in chat potrete fargli qualche domanda pure voi e niente io vi aspetto vi aspetto perché sarà molto interessante e poi volevo dire questa cosa che da oggi chi farà il livello abbonamento cavalieri potrà chiedere di essere intervistato e quindi dopo io metterò in coda le interviste per chi vuole essere intervistato e così via sarà una cosa che ogni tanto faremo questa cosa dell'intervista come io in passato devo dire che ne ho sempre fatte di interviste adesso era un pochino di tempo che non ne portavo ma ho intenzione di portarne ogni tanto spero che piaccia tanto anche a voi perché sempre è bello interessante conoscere tante cose delle persone con cui giochiamo oppure che ne conosciamo una piccola parte ma è bello sentire il pensiero da diversi punti di vista o gli hobby che uno ha e tante cose varie quindi un salutone a Giammi 94 ciao grande Giammi beh io e te virtualmente di video da diverso tempo che ci si conosce virtualmente però io ti auguro tutta la fortuna ma non solo nel campo che riguarda youtube ma tutto il resto tutto il resto della tua vita Giammi questo qua te lo dico io e te in generale che la cosa più importante che passiamo una bella bella vita che ci abbiamo una bella vita con tanta assolute e ti auguro tutto questo bene con Giammi io e te ci vediamo stasera in live alle 22 e vi aspetto ragazzi dai passate passate così fate un po di domande anche voi eccetera eccetera ciao a tutti da s video chio 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 chio